Buonasera a tutti, è il 12 giugno 2015 e una giornata particolare. Allora sono qui io, Guendalina Zampagni, con mia figlia Gesomina Pascucci che presenterà il film Noi siamo Francesco e tutto il giorno che io non esco di casa e ho ancora il pigiama. E sono le 10 di sera, quindi da stamattina che... Questo fa capire che la condizione psicofisico della regista è complessa, quindi ci siamo resi conto con mia figlia che non c'è più nessuno qui a Roma, siamo un po' preoccupatini perché il 25, 5 giugno 2015, microcinema fa uscire il film, allora abbiamo deciso che noi pubbliceremo, noi siamo Francesco, quindi noi pubblicizzeremo il film e noi faremo venire tutta la gente in sala, tutta non si sa chi, ma noi oggi facciamo questo comunicato ufficiale dal nostro computer, lo manderemo attraverso i potenti mezzi di Facebook, abbiamo pochissimi amici, ma quelli che sono, che già sanno tutto, sentiranno anche questo video, lo devono condividere, gli altri attori se non fanno lo stesso... Giusemina, cosa gli fai? Non c'è l'X Factor? Ecco, quindi state attenti, vi aspettiamo, se poi il film non vi piace, picchiate lei, lei, soprattutto lei, se vi piace, datemi baci a me, ciao, ci sentiamo prossimamente! Al prossimo! Alla prossima!